ciao ragazzi allora torniamo finalmente a parlare di sport sono anche sotto il cazzo a fare video polemici è da molto che volevo fare questo video però ho voluto aspettare perché volevo raccogliere un po di impressioni e per dire la mia su un discorso che molti vedono come un problema anzi quasi tutti vedono un problema io invece non so come cosa ne pensate voi ma io ci vedo un'opportunità io ci vedo un'opportunità di cosa stiamo parlando nel discorso arabia saudita questo gabrie veiga del saltavigo questo ragazzo che non è andato al napoli ma ha preferito andare nella saudi league notizia di poco fa ci andrà anche sala in saudi leggo di preoccupazioni video contriti di gente qui è un problema o qui un problema allora questo è un video avevo detto dovevo fare polemiche questo è un video dove vi dico la mia e per me questo è un'opportunità la saudi league è un'opportunità per riscoprire i talenti nostrani invece qua sembra che quando deve arrivare uno straniero non sceglie noi sceglie la saudi league ci dispiaciamo come se vedessimo già per scontato che lo straniero sia meglio dell'italiano vabbè allora saudi league ci stanno andando un po tutti brosovic ronaldo benzema sala manecante e tanti altri ora per chi non lo sapesse adesso faccio un po carmine faraco negli anni 70 80 l'uomo dei perché c'è stato un periodo in cui nella nasl quella che era la major league americana una volta la nasl si chiamava ci giocava gente come dal 76 all 81 ci ha giocato gente come beckenbauer gerdmüller bobby moore pelé deina il polacco grandissimo giocatore forse più il grande giocatore polacco di tutti i tempi scomparso in un incidente stradale anche lui neskens chinaglia cubillas carlos alberto capitano del brasile campione del mondo nel 70 rude kroll roberto bettega rob rensenbrink grandissima ala della grande olanda degli anni 70 e tanti 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 altri io che ho l'abitudine di andare a spulciare gli archivi dei quotidiani non ho letto un solo titolo sull'allarme nasla non ho letto un solo titolo eppure ragazzi neskens in america c'è andato per esempio neskens c'è andato che aveva 28 anni cioè per dirvi tardelli a 28 anni vinceva i mondiali per dirvene una per 32 33 anni c'è andato beckenbauer poco più di 30 anni muller altrettanto chinaglia il fatto di chinaglia è emblematico chinaglia era quasi fine campionato chinaglia lascia la lazio l'improvviso in piena lotta per la salvezza 4-5 giornate dalla fine va in america chinaglia uno dei simboli della lazio chinaglia li lascia li lascia di culo e per te e se ne va se ne va in america poi quella lazio si salverà teofilo cubillas un grandissimo calciatore peruviano giocavano tutti li giocavano tutti li e e all'epoca stavo dice titoli così allarmistici non se ne vedevano a parte il discorso di un'ipocrisia senza confini specialmente da parte degli italiani perché in questi anni siamo andati a giocare la supercoppa in america in cina anche in arabia saudita e nessuno avvo nessuno che si è permesso di dire a a nessuno che si è permesso di dire a eh ma i soldi fanno gola eh ma i soldi fanno gola perché adesso c'è questa allarme io un'idea me la sono fatta fra otto giorni termina il calciomercato giusto il calciomercato è sempre stato la miniera d'oro d'estate per i quotidiani perché non per chissà che i trasferimenti nel calcio ci saranno sempre questo è evidente però uno quando si fa l'attesa o quando per esempio la tua squadra è in corsa per pigliare un campione io tutto sport di fine anni 80 è entrato nella leggenda futre francescoli alla juventus eh dati alla juventus futre francescoli cuman cuman per due anni di fila dato alla juventus eh mateus dopo che era tornato in germania mateus e tanti altri tutte cazzate ma che servivano a vendere ora eh questo allarmismo dato di media sapete cosa mi dà che un conto quando tu pensi che sta per arrivare un grosso giocatore alla tua squadra un conto quando sai che un giocatore dal campionato X o anche dal tuo campionato va in Arabia Saudita te ne frega ma fino a un certo punto cioè non è una notizia che ti affascina non ti crea attesa non ti crea eccitazione no diciamo che al 90% non te ne frega un cazzo e non fregandole ne un cazzo quando tu leggi la notizia sul giornale non te ne frega niente quando tu leggi il titolo non te ne frega niente non vai a cliccare per leggerti l'articolo non ci vai non ci vai e questi sono tutti introiti in meno pubblicità in meno per i quotidiani ok quindi dove è il problema che gli arabi spendono soldi dove è il problema anche gli americani li spendevano negli anni 70 avete mai visto un'intervista di Cruyff quando va a fare il contratto in Nasr lui va via dal Barcellona litigando tanto per cambiare col presidente tanto per cambiare lui va e fa l'esempio lui va dicendogli spagnolo gli americani ti dicono te do i 10 ti do 10 lui risponde no chiedo 15 voglio 15 lui parlava spagnolo in questa intervista per poi chiudere a 12 di media e lì vedeva che gli americani restavano e lui dice una cosa è il miglior metodo perché uno prende quello che vale ma questo per dire anche allora ci andavano per soldi perché Neskens che lascia l'Europa a 28 anni lo fa perché è logoro a 28 anni è logoro cioè neanche le aveva Neskens mi sa che di settembre del 51 nel 79 neanche le aveva compiuti a maggio dove fa tempo a vincere la Coppa delle Coppe col Barcellona neanche fa in tempo a compiere 28 anni che è già in America un giocatore tra i più forti di sempre nel suo ruolo come Rensenbrink classe 47 ci va anche lui nel 79 a 32 anni a 32 anni Cristiano Ronaldo vinceva la sua la sua quarta Coppa dei Campioni come lui altri Modric, Penzema eccetera eccetera ma allora non se ne faceva un dramma questo è e poi sta storia degli arabi sta facendo venire a galla tanta ipocrisia le preoccupazioni è preoccupante dall'Italia preoccupante perché? perché è preoccupante? perché non arriva più lo straniero nella tua squadra? e poi sei il primo che ti lamenti che la tua nazionale fa schifo quando tu sei il primo a volere lo straniero è una deformazione mentale che colpisce anche gli allenatori voi lo ricordate la sfuriata di Conte dopo Borussia Dortmund Inter io a centro campo Barella l'ho preso quando da 2 a 0 persero 3 a 2 io Barella l'ho preso dal Cagliari e Sensi l'ho preso dal Sassuolo dopo 2 anni abbiamo visto chi è Sensi e soprattutto chi è Barella sapete quanti Sensi e Barella ci sono nelle categorie inferiori voi non avete idea io ho visto gente veramente di talento che ha giocato nella squadra della mia città Alfredo Varsi che ne so in eccellenza Alfredo Varsi 20 anni fa poteva benissimo giocare in serie B minimo in serie B uno come Alfredo Varsi uno come uno come Russo poteva tranquillamente giocare in serie B hanno già fatto una carriera fra eccellenza e serie D perché dava ben su gli stranieri e noi abbiamo quasi il riflesso condizionato oh cazzo come facciamo adesso come come sogniamo senza stranieri vi do una notizia come ho sognato io con l'album Panini del 1980-81 uno straniero a squadra uno straniero senza sponsor le maglie e neanche ce l'avevano tutti lo straniero neanche ce l'avevano tutti lo straniero ce l'avevano la Juve Bredi la Roma Falcao la Fiorentina Bertoni il Torino Van de Corput l'olandese il Napoli Kroll Rudy Kroll non ha bisogno di presentazioni e poi alcuni stranieri un po' così come Eneas del Bologna il mitologico Luis Silvio della Pistoiese ma c'erano squadre come Como squadre come Catanzaro come no Lavellino aveva Juari come Ascoli i Cagliari che facevano ottimi campionati serie A non avevano stranieri ecco come facciamo a sognare come ho sognato io da bambino col calcio flash l'album Panini così ho sognato io io rispetto a a quei tempi la salvo solo rispetto a oggi rispetto a quei tempi la salvo solo la pay tv che puoi vedere da partire di campionato in tv salvo solo quello e non c'erano manco le introite le televisioni allora non solo il mondo era diviso in due il mondo era diviso in due c'erano le frontiere non c'era la legge Bosman e allora ti poteva capitare la staua bucares che ti alzava la coppa dei campioni ti poteva capitare ti poteva capitare che so l'ipswich che ti vince la coppa UEFA ti poteva capitare la dinamo Tbilisi allora unione sovietica oggi Georgia che ti vince la coppa delle coppe il goteborg che ti vince due coppe UEFA la stella rossa che ti vince la coppa dei campioni questo ti capitava questo è il calcio per cui sono cresciuto io la Champions League vabbè diciamo che io sono per un ibrido tra la vecchia formula della coppa dei campioni e quella di adesso io sono per un ibrido sono ma all'epoca andavo in coppa campioni il primo turno la scuola italiana poteva beccare la finlandese la norvegese la danese la cipriota era facile passare dagli ottavi di finale in poi cominciavano i problemi cominciavano i problemi e noi agli ottavi ricordo che beccamo il Real Madrid o beccamo l'Underlecht e andammo fuori l'Inter addirittura va fuori col Malmo e non un Inter così l'Inter di Matteus di Serena di Klinsmann va fuori col Malmo in coppa dei campioni era bellissimo quel calcio che tu dovrei andare a giocare in Romania in Bulgaria in Cecoslovacchia in Russia in Yugoslavia tu ti cagavi sotto giocare in casa della Dinamo Bucharest tu ti cagavi sotto oggi gli fai tre gole ed è finita lì manco riescono a qualificarsi per la fase Gironi perché? e si è chiuso gli occhi su tutte queste realtà si è chiuso gli occhi chi se ne frega l'importante è che girano i soldi adesso che i soldi iniziano a girare da un'altra parte qui è l'ipocrisia adesso vi sentite il dito nel buco del culo adesso vi cominciate a sentire come si sono sentiti i rumeni i cecoslovacchi i bulgari i russi per un certo periodo poi sono tornati a giocare a casa loro adesso vi sentite un po' così vi sentite un po' così e poi sulla Premier sulla Premier che dicono la Premier fa la parte del leone la Premier fa la parte del leone ma mentre loro crescevano mentre loro crescevano mentre loro crescevano noi apriviamo ad apprendisti stregoni in federazione di quelli che ti facevano fallire le squadre noi ci abbandonavamo perché noi siamo quelli noi vogliamo fare i severi ma poi siamo dei pagliacci soltanto perché i severi li facciamo solo con chi diciamo noi quando c'è l'amico un po' come quelli che dicono eh ma in Italia c'è la corruzione quelli che politificano eh ma in Italia c'è la corruzione allora io io a questa gente faccio una sola domanda ma tu quando tu dove abiti tu non c'è la corruzione quando ne hai denunciati tu eh ipocrita questo per dire poi ci sono quelli che dicono eh vedete se ci fosse stata la superlega no no sarebbe stata la stessa identica cosa la stessa identica cosa perché tu hai diritto di fare una roba di elite gli arabi no perché tu sei meglio degli arabi eh è un po' razzista questo discorso diventeremo come le leghe sudamericane diventeremo infatti le squadre europee sono piene di giocatori sudamericani venute fuori da quelle leghe vengono fuori i talenti tu quello devi cercare e cazzo specialmente gli juventili che sento parlare così mi meraviglio abbiamo passato un'estate a fare le calcolatrici ma dobbiamo cedere non abbiamo l'introi di champions dobbiamo vedere di cedere chiesa o vlaovic dobbiamo fare sacrifici avete passato un'estate a romper i coglioni con la calcolatrice in mano eh avete passato e adesso cosa non vi sta più bene perché gli arabi hanno più soldi di noi ficcate poi ficcatevi una cosa in testa gli arabi hanno anche più soldi di noi ma c'è una cosa che non puoi comprare che non puoi comprare neanche con tutto l'uno del mondo che è il brand il brand tolto questo Gabi Vega come cazzo si chiama lui se a un ventenne di oggi li prospetti vuoi andare a giocare in arabia o vuoi giocare nel real madrid secondo voi sceglie l'arabia il brand il brand in Asia Giappone Corea Thailandia India Indonesia guardano la Premier League non guardano la Saudi League guardano la Liga non guardano la Saudi League in America guardano la Premier League non guardano la Saudi League quindi loro possono avere tutti i soldi che vogliono come gli americani negli anni 70-80 tutti i soldi che vogliono il mio calcio si gioca qua il brand non lo compri così facilmente non lo compri e questa è un'altra storia poi vabbè sulla Premier League come dice il signor percorso padre eterno lavora nel silenzio come dice vi ricordate quando ci fu la Brexit ora falliranno faranno una brutta fine vedrete quando usciranno davvero dall'Europa vedrete che fine farà la sterlina ecco sono il campionato più ricco al mondo e hanno distanziato di brutto anche la Liga finché ci sono stati i fenomeni li teneva a testa finché ci sono stati i fenomeni come Ronaldo Mordic Messi Iniesta Benzema e questi qua finché c'erano questi qua li tenevano a testa la Premier League ora non c'è più c'è più nulla c'è più nulla hanno i soldi e investono in un anno quello del Cesi ha speso un miliardo di euro i risultati fanno cagare il Fulham che vuole Ken a 40 milioni di euro ammesso che sia vero è indicativo ma non dovevano fallire questi qua invece no non è è chiaro che non è tutta fallire del loro sacco ma sono per lo più investitori stranieri ma qua torniamo all'ipocrisia italiana sapete perché investono altrove non in Italia ve lo dico io perché ma voi pensate che uno che guarda in un paese dove ogni tanto si sveglia un PM e dice tu hai fatto imbrogli col bilancio salvo poi tra 3-4 anni scoprire che non era vero niente però intanto la federazione ti penalizza fa così perdi soldi così ma voi pensate che un imprenditore un americano un arabo in Italia dice per quale motivo sapendo come operano un po' tutti perché non ce ne è santi in questo nel mondo del calcio sapendo come operano tutti ma secondo voi un investitore estero vede cosa è capitato alla Juventus si mette a quel rischio là ma per favore per favore meno ipocrisia meno ipocrisia perché avete paura degli arabi io non ho paura degli arabi anzi noi abbiamo un vantaggio con questa storia qui noi abbiamo un vantaggio sugli altri noi siamo un popolo di mammoni siamo un popolo che difficilmente ci allontaniamo da casa e quando ci allontaniamo facciamo di tutto per tornare vedi Scamacca vedi Lucca c'è stato un tempo in cui Vialli Vieri ma Vieri dopo un anno era di nuovo in Italia chi è stato più anni fuori è uno è gente che in Italia oramai aveva dato quasi tutto Vialli Di Canio Benni Carbone tutti questi qua Ravanelli tutti questi qua che in Italia avevano già dato ma gli altri dopo un anno sono tornati indietro a gambe elevate noi con Sassone degli Arabi abbiamo un vantaggio rispetto agli altri che l'italiano o un italiano la sirena araba non è forte come richiamo della gonnella di mamma o della famiglia noi abbiamo un vantaggio noi dovremmo essere avvantaggiati da tutto questo e invece e invece è un problema come faremo no è un problema per i media è un problema per i media che non attraggono più nulla d'estate è forse anche questo un bene così magari imparano a scrivere minchiate dalla mattina alla sera ha proposto mancano se manca una settimana alla fine del calciomercato aspettate e vedrete iscrivetevi al canale a